buon dia a tutti in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo caldacollo sacca adesso scoprirete perché si chiama sacca che io ho deciso di chiamare chelsea questo perché il filato che ho utilizzato è della lana gatto e si chiama appunto chelsea io ho scelto questo colore molto particolare molto acceso perché sapete che preferisco gli accessori colorati in modo da poter staccare quando uso gli outfit soprattutto monocolori e in inverno io tendo a spusare molto spesso il verde il blu il nero quindi colori comunque molto cupi e quindi mi piace dar vita quando indosso questi colori a più colore a dare più risalto le cose utilizzando degli accessori più colorati ma oltre questo colore sul sito ne trovate anche altri due sempre della linea celsi vi lascio il link in descrizione questo diciamo che è quello più abbinabile a tutti gli outfit e questo è per chi ama i colori verde chiaro i gialli gli arancioni si abbina tantissimo ora per poter realizzare questo scaldacollo che è largo circa 67 cm lungo e alto 27 cm io ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto del 6,5 mi raccomando però se lo volete più largo lo volete più alto vi occorrono tre gomitoli ora perché l'ho chiamato sacco in realtà l'idea di questo scaldacollo mi è venuto in mente pensando uno scaldacollo che possiede mia sorella sportivo che usa quando va a correre in inverno quando fa molto freddo perché può indossarlo o in questa maniera come lo sto usando io oppure può tirare appunto il filo e avere il collo più protetto e chiuso e noi qui possiamo andare a fare anche un bel fiocco appunto per chiudere la nostra lavorazione quindi vedete l'ho chiamato sacco per questo perché poi assume questa forma di sacco però è bello morbido e tiene molto molto caldo e protetti comunque dal vento e si può stringere quanto si vuole proprio perché ci sono queste catenelle che passano lungo tutto il bordino e bordino in realtà l'ultimo giro e serve appunto per chiudere il nostro scaldacollo e renderci più protetti sia dal freddo che dal vento quindi è questo il motivo per cui ho deciso di chiamarlo anche scaldacollo sacco per quanto riguarda la lavorazione vi dico già che il punto che ho scelto può essere definito un incrocio tra un punto nocciolina e due maglie alte chiuse insieme perché per tirare i fili si usa la stessa tecnica delle noccioline ma in realtà per poterlo poi chiudere si usa invece la tecnica delle due maglie alte chiuse insieme quindi è un po' particolare però è molto molto semplice da fare quindi anche per forse è anche più semplice per chi ha le prime armi inoltre ho usato una tecnica diversa per fare il primo giro di maglie alte in modo tale che non ci siano le catenelle sotto che tirano vedete non tira per nulla perché ho utilizzato appunto un avvio della lavorazione che molte già conoscono ma magari le principianti no che vi serve appunto per evitare di fare le catenelle e avere quindi una morbidezza maggiore nell'andare a fare il primo giro naturalmente questa tecnica si può fare soprattutto quando avete una base del punto che dovete usare di maglie alte se dovete fare invece un altro tipo di lavorazione non dovete per forza iniziare con le catenelle però per fare questo tipo di lavorazione che ho fatto io andava benissimo questa nuova per chi è esperta però per chi lavora da anni all'uncinetto in realtà è una tecnica che conosce già e io già una volta in passato l'ho presentata su uno dei miei video quindi detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiderate realizzarla e se è così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook uncinetando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di uncinetare e sferuzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come Elsa faccio e noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare il nostro scaldacollo io ho deciso di utilizzare il filato della lana gattolini a celsi guardate che meraviglia ho solo tre colori a disposizione ma sono tre colori che sono abbinabili abbinabilissimo a diversi tipi di outfit dei colori che usiamo spesso io ho scelto di utilizzare questo centrale che il 30.115 perché stacca di più sui colori che indosso solitamente però per chi non vuole staccare può andare su questi che sono più classici se chi non vuole staccare ma non troppo vi consiglio comunque di andare su questo colore ora diciamo questo io ho lavorato con uncinetto del numero 6 e mezzo ve lo faccio già vedere lo scaldacollo perché per farvi vedere la lavorazione userò un altro filato a tinta unita perché altrimenti il primo giro che non è fatto con le catenelle come facciamo solitamente ho paura che con un colore sfumato non riuscite a vederlo bene quindi preferisco fare un tinta unita e ho lavorato il filato con un uncinetto del numero 6 e mezzo ora il giro che va sempre ripetuto che è il secondo è particolare perché è come se si facessero delle noccioline però diciamo che sembrano incrociate vi parlerò meglio sembrano due maglie alte chiuse insieme ma non lo sono adesso che andremo a fare i due giri vi spiegherò appunto bene come realizzarli allora come vi ho detto io utilizzerò un filato diverso vedete un tintonita così è più facile da vedere la lavorazione come vi ho detto io la vado a fare col 6.5 però qui per lavorare questo filato che è più sottile lavorerò col 5 e mezzo quindi se dovete utilizzare un filato più sottile utilizzate il 5 e mezzo un filato che si lavori con il 5 e mezzo altra cosa io di maglie alte in totale qui ne ho 46 46 mi permette di avere una circonferenza di circa 67 cm quindi mi raccomando se volete lo scaldacollo più largo fate delle maglie alte in più rispetto a me non c'è bisogno di rispettare un motivo quindi possono essere dispari o pari diciamo che da man mano che andando a mettere maglie alte vedete in circolo come viene e se lo volete fare più largo del mio mettete qualche maglia alta in più quindi andiamo a realizzare appunto il nostro primo giro quello delle maglie alte come vi ho detto non faremo le catenelle proprio perché così evitiamo che si tiri sotto le catenelle quindi andiamo a realizzare un totale in questo caso di quattro catenelle quindi una due tre e quattro prendiamo due volte il filo sull'uncinetto entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto andiamo a fare una maglia alta doppia prendiamo di nuovo due fili sull'uncinetto e quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro entro nella prime due e nel primo incrocio della maglia alta doppia vedete questa è la maglia alta doppia entro qui dove ci sono questi due filetti e vado a fare la mia maglia alta doppia di nuovo prendo due volte il filo sull'uncinetto entro alla base della maglia alta che doppia che ho fatto quindi entro in questi due fili e di nuovo ad affare la mia maglia alta doppia vedete la lavorazione viene in questa maniera sembrano delle maglie alte separate da una catenella ma realtà sono delle maglie alte doppie che ci permettono sotto di non avere la lavorazione tirata si fa soprattutto quando si vogliono fare senza catenelle le maglie sotto quindi che non ci sia quella cosa che stringe e quando naturalmente la base inizia con maglia bassa quindi di nuovo prendo due volte il filo sull'uncinetto vedete viene in automatico scendere e andare in questi due fili base della maglia alta per doppia precedente e si va a fare la maglia alta doppia prendo due volte il filo sull'uncinetto e di nuovo scendo entro nei due fili quindi motivo per cui vi ho detto di lavorare con un certo grande anche questo perché è più facile individuare i due file di entrare soprattutto se siete alle prime armi non avete mai fatto questo genere di lavorazione iniziale quindi si prende due volte il filo sull'uncinetto si entra nei due fili di base della maglia alta doppia precedente e si va a fare la maglia alta doppia vi faccio continuare a vedere come viene in automatico man mano che si procede con la lavorazione quindi si prendono volte il filo sull'uncinetto si entrano nei due fili e si va a fare la maglia alta doppia viene davvero in automatico è un po più difficile quando si usa un uncinetto più piccolo perché giustamente le due ma le due fili di cui si deve entrare sono più stretti e quindi sono anche più piccoli sono un po più difficile da vedere però non mi preoccupate man mano che vi abituate a fare questa lavorazione vi viene facile anche farla con degli uncinetti più piccoli visto che per me mi sembra che questa forse è solo la seconda volta che uso questa tecnica preferisco fare in questa maniera mostrarvela con un uncinetto grande e quindi come vi ho detto io nella mia lavorazione vera e propria sono andata a fare un totale di 46 maglie alte vedete come viene la lavorazione non tira assolutamente sotto per poter chiudere la lavorazione adesso vi faccio vedere in tondo come si va a fare si prendono sempre due fili sull'uncinetto si entra sempre nelle due fili qui ma si va a chiudere anche la lavorazione quindi vedete in questo caso io torno mi raccomando non girate state attenti che avete fatto il giro entro nella catenella iniziale dove ho fatto la maglia alta doppia con l'uncinetto prendo il filo ed esco sia dalla catenella iniziale che dalle due che ho fatto che avevo presi prima e poi vado a fare la mia maglia alta doppia e si chiude il giro entrando nella terza catenella che qui l'aveva mia prima maglia oltre facendo una maglia bassissima vi faccio rivedere il movimento così ripeto per chi ha le prime armi lo può capire quindi sfiliamo tutto prendiamo due volte filo sull'uncinetto entriamo nelle due catenelle di base entriamo nella catenella iniziale eccoci prendiamo il filo ed usciamo sia dalla catena iniziale che dalle due della della maglia alta precedente e poi vado a fare la mia maglia alta doppia entriamo poi nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassissima e abbiamo chiuso il nostro primo giro e adesso andiamo a fare il secondo giro che è il giro che dovremo sempre ripetere e che come vi ho detto anche in questo caso è un po' particolare per iniziare il giro tiro un po' la mia asola la porto sul davanti la lascio la prendo da dietro entrando nell'archetto con l'uncinetto la porto avanti adesso vado a lavorare in questa maniera questo è per il primo giro per il primo per iniziare il giro poi vi faccio vedere come continuare rientro prendo il filo ed esco prendo il filo vado nell'archetto successivo prendo il filo ed esco prendo il filo sull'uncinetto ed esco da tutti i fili sull'uncinetto questo è per iniziare il giro adesso devo fare quello che faremo per tutto il giro prendo il filo sull'uncinetto entro nello stesso archetto vado a prendere il filo lo tiro fuori mi raccomando quando tirate fuori il filo che sia siate in parallelo prendo il filo vado nell'archetto successivo prendo il filo ed esco e vado in modo che sia pari prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto abbiamo così fatto questa sorta di nocciolina e più abbiamo qui il foro per lavorare nel giro successivo quindi ripeto prendo il filo entro nel prima che nello stesso archetto di cui ho finito prima e prendo il filo ed esco prendo il filo vado nell'archetto successivo prendo il filo ed esco prendo il filo esco da tutti i fili sull'uncinetto e si comincia quindi prendiamo il filo entriamo dentro uno stesso archetto prendiamo il filo usciamo prendiamo il filo andiamo nell'archetto successivo prendiamo il filo usciamo prendiamo il filo usciamo da tutti i fili sull uncinetto e continuiamo così per tutto il giro facciamolo ancora insieme prendo il filo rientro nell'archetto prendo il filo ed esco prendo il filo archetto successivo prende il filo ed esco prende il filo sull'uncinetto ed esco da tutti i fili che ho sull'uncinetto ancora prende il filo entro uno stesso archetto prende il filo ed esco prende il filo con l'uncinetto entro nell'archetto successivo prende il filo ed esco prende il filo con un cinesto ed esco da tutti i fili dell'uncinetto e continuiamo così mi raccomando non vanno fatte catenelle di separazione tra le varie lavorazioni vi viene poi in automatico farlo vedete in questa maniera molto semplice vediamo vedete che qui è più piccolino qua e viene più carino proprio perché abbiamo un filato più grosso quindi a questo punto lo consiglio soprattutto quando avete dei filati grossi perché vi viene bello vaporoso lanoso coprente non troppo forato io adesso continuo a lavorare così per tutto il giro e vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi di nuovo a fare questo e perché questo è il giro come vi ho detto che va sempre ripetuto allora sto per terminare il giro devo andare a fare il mio punto l'ultimo punto quindi prendo il filo entro nello stesso archetto prendo filo esco prendo filo entro nel primo archetto dove avevo iniziato la lavorazione prendo il filo ed esco prendo il filo ed esco da tutti i fili sull'uncinetto per chiudere la lavorazione entro nel gruppo di rifiuti nel gruppo dell'iniziale di nocciolina e vado a fare una maglia bassissima tiro entro all'interno dell'archetto tra le due punti dai tre due punti nocciolina che ho fatto prendo il filo ed esco adesso ricominciamo da fa a dar da capo come vi dicevo l'inizio del giro non vado a prendere già adesso il filo ma rientro dentro e prendo il filo prendo il filo vado tra i due gruppi prendo il filo ed esco prendo il filo ed esco da tutti i gruppi sull'uncino da tutti i fili sull'uncinetto e adesso torno a lavorare normalmente prendo filo entro prendo il filo ed esco prendo il filo vado tra i due gruppi successivi prendo il filo ed esco e chiudo tutto e continuo così per tutto il giro rientro prendo il filo vado in quello successivo prendo il filo esco e chiudo tutto mi raccomando più tenete la mano morbida più naturalmente la lavorazione vi viene bella morbida e continuiamo a fare questo per tutto il giro è davvero semplice una volta che avete preso la mano andare a lavorare e più prendete la mano più vedete che la lavorazione vi viene bella morbida in questa maniera come potete vedere qui viene un po più forato mentre qui è molto più chiuso proprio perché ho usato un punto grosso c'è un filato grosso ora continuiamo al tutorial così vi dirò quante volte ripetuto il giro come sono andata a terminare il tutto allora io ho terminato il mio scaldacollo ho ripetuto il secondo giro per un totale di 17 volte quindi ho fatto il primo giro come vi ricordate con le maglie alte ho fatto poi il secondo giro per 17 volte e ho terminato con un giro di maglie alte come vedete poi sono andata a fare la maglia alti in ogni archetto che mi separa il le nostre chiamavano in noccioline perché comunque mi piace chiamare le noccioline questa la sorta di due maglie alte chiuse insieme anche se non sono due maglie alte chiuse insieme sono delle noccioline e quindi sono andata a fare la maglia alta senza catenella di separazione mi raccomando esattamente come abbiamo fatto per il primo giro in ogni archetto che mi separa appunto le noccioline poi ho fatto una lunga catenella sempre con l'uncinetto del numero 6 fatta comunque di tante cioè scusate una lunga striscia di catenelle ho usato tutto il filato che avevo detto non fa niente se viene lungo perché tanto è bello faccio un fiocco largo che mi servirà appunto per poter stringere lo scaldacollo in modo da indossarlo o bello largo oppure stringere al collo quando c'è molto freddo e chiudere appunto con un fiocchetto quindi anche questa creazione è terminata grazie a tutti